vai fallo sognare non ricordo 1 almeno c'è più fresco che di là quello è vero occhio che arriva largo bravo che tu prima l'hai incrociata due volte vai qua dritto fino in cima a lui non glielo ho detto perché non lo fanno staccare sono bastardo no a te non te lo vedo perché dovevo farti staccare lui glielo ho detto la cena da subito cosa è che hai fatto? il gas apri tutto il gas spunta fuori quello che c'è dentro va eh non è proprio no la provare è in terza dalla salita qua eh perché deve arrivare su lungo fa il saltello ti ferma un po' eh ma ascoltami così qua dici che rischio molto con queste scarpette qua non mi fido tanto eh oh mi sembrate tutti statali eh bravo non incrociarla eh oh prima l'ha fatto bene eh no vabbè non è andata stavolta prima l'ha fatta molto molto meglio ho deciso sei arrivato troppo lento non buttarla giù che ci sono loro in fondo eh no perché di solito la lancia quando in quelle condizioni qua di solito proprio la lancia e se tu sei sotto ti ammazza vedi vedi oh chi mi ha detto di venire dietro il nocciolo che mi prende lo stesso aiuto aiuto dove devi andare dimmi dove devi andare vedi che va indietro appunto rifa parti da lì e rifalla parti già da lì rifalla devi andare su veloce da qua vai forza e coraggio bravo salta su non scendere così salta su marco da una gasata vuotala vuotala no non la vuotano niente da fare hai rifatto la stessa coppia di prima ti ho detto vuotala tutta dimmi dove devi andare che io scappo via vado in alto di solito non dovrebbe riuscire a prendermi minimo era in terzo in quarta minimo via via fuori che la fanno gli altri vai ti sei stancato di più accendela che non la fa la zona è pericoloso lì se uno fa il tuo verso gli cade la sola moto